buonasera e bentrovati a questo video recensione di un rasoio ogni tanto mi concedo appunto una recensione la recensione di un rasoio questo rasoio di perl shoving in questo caso si tratta di un rasoio slant apprezzo molto le confezioni di perl shoving perché sono essenziali quindi ma andiamo a vedere all'interno della confezione che cosa si trova e naturalmente vediamo il rasoio allora qui abbiamo le classiche brochure ma non andiamo a verificarle andiamo subito al sodo qua c'è la solita salviettina che utilizzo per pulire gli occhiali un pacchetto di lamette willis che non conosco però le willis non le conosco o questo è un rasoio che deve essere commercializzato in italia quindi lo è già in india negli stati uniti rasoio slant in questo caso stavo dicendo apprezzo le confezioni di perl shoving perché sono esattamente l'essenziale di quello che a cui servono per contenere il rasoio semplicemente e basta poi ci sono le persone che vogliono una confezione un po più completa eccetera eccetera e quindi possono apprezzare più o meno l'essenziale che può essere questo tipo di incartamento chiaro così all'interno della confezione c'è appunto questo perl shoving slant con il manico in acciaio 316 l anche piuttosto lungo adesso andiamo a vedere pesi e misure e la testa invece in lega di zinco vediamo questa testa tra l'altro c'è un inserto in silicone mi pare così sembrerebbe esattamente silicone che si mette tra testa tra pettine e manico per non andare a rovinare l'intersezione allora vediamo un po la testa in zinco come come è fatta sembra ben costruita quasi sicuramente in pressofusione in effetti ci sono degli inserti che possono delle delle dei segni che possono far pensare a una pressofusione ammesso che con lo zinco si possa ma devo dire che comunque i pezzi ricavati dal pieno si possono sicuramente diversificare dagli altri in pressofusione allora questo è il manico direi che il grip di grip ne ha da vendere per cui c'è una doppia una doppia lavorazione sul sul manico per accentuare appunto questo grado di di presa aumentare la presa della dell'impugnatura allora il manico è piuttosto lungo e anche pesantino lo trovo pesante non è sicuramente un rasoio che può cascare dalle mani per via del del suo del suo grip adesso vediamo un po pesi e misure allora trovo invece molto utile questo sacchetti questa bustina contenente gli inserti in silicone che possono essere utilizzati sia per questo rasoio questo è quello già montato sul rasoio questi inserti che possono essere utilizzati magari anche per altri rasoio un po più preziosi no perché diciamocelo noi abbiamo i rasoi di chi di rasoio se ne intende insomma sa benissimo che un rasoio che costa 3 400 euro abbia bisogna di questi inserti in silicone vediamo un po il peso di questo rasoio allora io penso che superi gli 80 grammi vediamo un po allora siamo addirittura 105 grammi 106 grammi quindi un peso abbastanza sostenuto vediamo solamente il manico siamo sui 62 grammi 62 grammi e vediamo la testa che anche lei è piuttosto pesante quindi sarà intorno ai 40 50 45 44 grammi la testa è un rasoio in slanta che non è intorsione quindi non va la lama essere ritorta all'interno del della testa bensì subisce un'inclinazione che poi a seconda della caduta del rasoio non caduta per terra naturalmente a seconda della discesa del rasoio imprime appunto questo effetto ghigliottina sulla barba vediamo rapidamente un po le misure di questo rasoio non sono più abituato a fare le recensioni perché prima magari avevo meno esitazione invece adesso mi devo un po rifare perché essendo una recensione dopo mesi mi ci vuole un po di attenzione allora qui abbiamo un manico da 98 mi sembra di vedere non su questo schermo lcd perché la batteria è andata diverse settimane ma lo vedo da da qui quindi abbiamo 98 millimetri di manico altezza testa non so quanto possa essere utile ma vediamo un po la larghezza della testa per confrontarla con la lametta qui abbiamo un 40 40 millimetri la larghezza della testa per un'altezza di questo non riesco a vederlo ragazzi dovrebbe essere 0 8 un centimetro più o meno 0 8 0 9 una testa piuttosto pesante per un rasoio che di 105 grammi non ne vuole sapere di leggerezza di utilizzo diciamo che uno slant di questo tipo può aiutare anche la rasatura quotidiana ma soprattutto perché è slant e soprattutto perché non non avendo la lama ritorta quindi questa piegatura della lama nella testa che a volte può dare fastidio su lamette che sono piuttosto rigide come può essere magari una feather su una testa che la fa arrabbiare perché la torce un po meno invece sulla cai perché essendo più morbida come lama su questo tipo di rasoio su questo tipo di testa invece qualsiasi lama può andare bene ma soprattutto anche le rigide perché non subiscono torsione quindi sulla sulla testa così possono trovare terreno fertile il prezzo di questo rasoio si dovrebbe aggirare è molto competitivo si dovrebbe aggirare intorno ai 20 euro anche perché l'ho visto in commercio su siti statunitensi a 19 dollari e 99 quindi si può pensare a 20 euro in italia ma io non so nulla perché non mi è stato detto nulla quindi in base alle mie alla mia documentazione tanto vi dico tanto so che dire il prezzo è competitivo diciamo che di slant di questo tipo con questo tipo di testa ce ne sono pochi o addirittura non ci sono neanche per nulla sul sul mercato almeno o è terminata la la produzione quindi ben venga un utilizzo cioè la presenza di un rasoio con una testa senza la torsione senza lo slant in torsione il manico magari poteva essere più corto perché io ribadisco il manico lungo secondo me può interferire comunque con la clavicola almeno a me dà fastidio nonostante abbia comunque le mani piuttosto grandi a me il manico più piccolo piacerebbe di più magari già un 85 chiaramente arrivando qua già andava bene ma anche perché comunque essendo lungo tende ad essere anche piuttosto slim quindi per una mano importante è meglio avere un manico più corto ma un po più grande un po di sezione maggiore comunque sono sono sicuramente giudizi individuali questi bisogna provarlo sul campo e vedere come ci si trova secondo me per lavorare sui confini della barba e quindi più vicini al busto e comunque con una maggiore attenzione è importante avere degli attrezzi un po più minuti io lo proverò sicuramente nelle prossime settimane durante la prossima settimana proverò questo rasoio qui c'è non è un indice ma è semplicemente una punzonatura neanche deve essere scritto a laser o a vernice per shoving cos'altro c'è da dire vediamo se troviamo qualcos'altro quindi della scatola ne abbiamo parlato della bustina ne abbiamo citato citata l'esistenza di questa bustina di inserti scatola essenziale a quanti può interessare la scatola che sia più di presentazione di rappresentanza potete scriverlo nei commenti naturalmente io direi che come video recensione può essere sufficiente come informazioni di questo perl shaving slant safety razor ss 316 l handle è il manico e la sua testa in lega di zinco qui c'è scritto ho visto un plastic free plastic free però ci sono dentro degli inserti in silicone magari non è plastica non lo so però mi sembrava trasparente plastica trasparente però magari qualcosa qualcosa mi sfugge ditemelo voi mi aiutate un abbraccio da Mauro dal canale della rasatura del neofita ci vedremo prossimamente con questo rasoio in confinatura ciao a tutti grazie per l'attenzione e buona serata